Grazie a tutti per aver donato loro, il tuo amore, il tuo affetto, la tua amicizia, la tua gentilezza, la tua bellezza. Senza di te le nostre vite sarebbero state tristi e vuote, grazie della tua presenza. La memoria di loro resterà incisa nelle conversazioni interrotte, negli abbracci affettuosi mai completati, nel ricordo dei giorni felici trascorsi insieme, nelle tante foto che ti ritraggono, carissima, nei momenti felici della tua breve vita, troppo breve perché tutto l'amore nostro potesse essere con te ancora per moltissimi anni. Sarai sempre tra di noi e la morte non avrà vinto. Non ci sono parole per descrivere lo sfumento e il dolore che ci ha lasciato la notizia della tua improvvisa e prematura scontata. Non potevamo crederci, non poteva essere vero, non poteva essere possibile che a pochi giorni dall'operta, un'altra collega che leggo la Maria che viene nella vita, tutti noi dovessimo ancora conteggiare un'altra situazione di un'altra situazione che ne sei andata via con la tua solita discrezione. La tua gentilezza e il tuo marco non puntano i miei, perché così tu eri discreta, sensibile, sempre pronta ad aiutare gli altri, indipendentemente da chi avessi di fronte, un amico, un collega, un cliente o semplicemente una persona bisognosa d'aiuto. Sei stata una brava persona, nel senso vero e eterno, un'amica sincera, una stimata e un leggo, preparata, corretta e leale, sempre capace, grazie a tua sensibilità, a tua capacità di ascolto e di dialogo, di rappresentare i diritti e gli interessi dei tuoi assistiti in maniera ferma, sovra e composta, senza mai screditare, potrà valicare i limiti della competenza e che i decidi di ciò che non fosse esattamente necessario per una compresa tecnica. Il nostro foro oggi è stato privato di un validissimo problema. Ci mancherai Nicoletta, ci mancheranno tanto la poesia, la tua limpidezza d'animo, il tuo sorriso. Al papà, alla mamma, alla sorella Maria Chiara, al compagno Paolo, ai nipoti, a tutti i familiari, ai colleghi di studio, va alla profonda partecipazione dell'abbraccio stetuoso dell'ordine degli avvocati di tutto il foro. Cara Nicoletta, te ne sei andata a prevarire un'onte in quanto stavi per partire per la Roma da Sicilia. Sei invece partita per un più lungo e inatteso viaggio. Ti auguriamo tutti che sia questo il viaggio più bello della buona, una cosa incerta. Anche questo viaggio lo avvolterai con il sorriso. Anche questo viaggio lo avvolterai con il sorriso. Anche questo viaggio lo avvolterai con il sorriso.